Una cosa che mi è piaciuta tanto è quello quando interagite con gli studenti, quando lo fai insieme capisci anche dove sbagli, capisci dove hai delle piccole lafune, cioè sei tu protagonista con te, con voi, insomma, e provi a fare, vedi, e se hai qualche dubbio su qualcosa viene subito risolto, no? Mi piace un sacco, veramente. Il corso mi piace, è esaustivo, diciamo, c'avevo un'infarinata, quindi un pochino ne sapevo, però adesso ne so molte di più. Massimo ha un dono, cioè riesce a semplificare le cose più difficili. Nella preformazione avevo, diciamo, capito quali erano poi i concetti e il metodo con cui si lavorava, e poi anche in queste questioni, devo dire, sono molto soddisfatto perché le spiegazioni sono molto chiare e puoi avere anche riferimento grafico, mondialmente, fatto molto bene, è importante per memorizzare il meglio. Per me è fondamentale il rischio, che una volta che tu hai stabilito il rischio, dormi tra due guanciali, cioè tu sai che quello è il rischio, come reagisco, sto bene, sto male, quanti consecutivamente riesco a incassare come colpi, cioè una volta che hai gestito quello, perché è tutta una cosa psicologica, il resto è di conseguenza. Per assistenza tramite la mail, ci sono degli incontri come questo che stiamo facendo. È bellissimo, cioè ti senti partecipe, ti senti proprio a casa, non so come dirti.